Prove di manovra ieri mattina nella nuova stazione dei bus all'ex scalomerci di Ragusa. Soddisfatto il sindaco Peppe Cassì che sottolinea come turisti e ragusani arriveranno finalmente in centro dove troveranno tutti i comfort, bar e ristorante, il nuovo giardino, collegamenti con la vicina stazione ferroviaria e con gli altri sistemi di mobilità, dai taxi ai bus urbani alla mobilità dolce. E se lo vorranno prosegue il primo cittadino da qui potranno spostarsi a piedi raggiungendo in pochi passi Piazza Libertà, il nascente parco della Valata Santa Domenica e scendere fino a Ibla. Di fatto tutte le zone limitrofe, Via Carducci, Via Archimede, Piazza Libertà, Piazza del Popolo, Viale Delfante, Viale Tenente Elena, finora scuscite tra loro, prosegue il sindaco, saranno connesse e avranno una straordinaria occasione di sviluppo e riqualificazione. La fermata sotto le pensiline conclude il primo cittadino che daranno ombra col caldo e copertura contro l'interbere col freddo è più che agevole. La fermata sotto le pensiline di sviluppo e riqualificazione di sviluppo e riqualificazione di sviluppo e riqualificazione.